Sicuramente sono contento, anche se adesso è mister e quindi altre mansioni, io sono a sua disposizione e cerco di fare quello che chiede lui. Ho buoni ricordi perché tra l'altro il mio esordio assoluto tra i professionisti l'ho fatto giocando in coppia con lui e quindi mi fa molto piacere ritrovarlo. Si era inserito il Parma e c'era stata una mezza trattativa con il Latina, però non ero molto contento di andare lì e poi gli ultimi giorni c'è stata la chiamata del Cesena, non ho aspettato neanche una seconda chiamata, ho dato subito l'ok. La posizione è più naturale, riesco a esprimermi meglio, però ho giocato anche davanti alle difese, addirittura ho giocato difensore, l'anno scorso ho giocato molte partite anche dietro la punta, la preferenza è normale. Sì, tra l'altro ho giocato in coppia con Daniele, con Capelli, a Reggio Calabria.